Oggi è una lezione abbastanza importante in realtà, perché dobbiamo proseguire, dobbiamo dare un po' le basi di quella che sarà l'argomento della lezione che è la topologia negli spazi Allora vi ricordo cos'è uno spazio medico, x e y è un insieme sul quale è stata fissata una distanza, una distanza è un'applicazione da x per x, cartesiano x, a valore di 0 più infinito, che aveva tre proprietà, se vi ricordate, la distanza era maggiore o uguale di 0, anche qua, ed era uguale a 0, se x se lo sei, x era uguale a x, poi era simmetrica e poi valeva, la disuguaglianza. Poi abbiamo visto che cos'era la sfera aperta di 100x con 0 e raggio un'insieme di x, quindi la distanza di x da x con 0 e minore di x. Poi abbiamo visto il concetto di intorno di un punto x, x con 0. Uso questa simbologia per dire che u è un intorno ad x con 0, uso questa U script, un corsivo diremmo noi, che sta a indicare la famiglia degli intorno di x con 0, U di x con 0 è uguale all'insieme degli U contenuti in x, tali che U è intorno a x con 0, se solo se per definizione esiste un'epsino maggiore di 0, tale che x con 0 appartiene alla sfera di centro x con 0 di raggio x, è contenuta in x, quindi un insieme per chiamarsi intorno a x con 0, doveva contenere una sfera di centro x con 0 di raggio x, deve contenere una sfera di centro x con 0 di raggio x, o dire che U è intorno a x con 0, si può dire anche che x con 0 è interno. Poi abbiamo detto che il insieme A, il insieme A di x è aperto, se solo se per definizione A è intorno di ogni prodotto. possiamo dire anche, possiamo indicare con A script, la famiglia, in realtà in genere invece che con A si chiama con Tau, la famiglia degli aperti x, si indica in genere con Tau. Tau si chiama una topologia. Chi è la topologia sull'insieme A è la famiglia degli aperti. Adesso ne vedremo le proprietà. Se abbiamo quindi una metrica, abbiamo gli intorni e abbiamo gli aperti. In realtà potremmo avere gli aperti anche senza avere una distanza. Adesso vedremo che la famiglia degli aperti deve avere certe proprietà. Vedremo prima le proprietà degli intorni e poi quelle degli aperti. Dopodiché, se noi avessimo un insieme e una famiglia di sotto insieme di x con quelle proprietà, la potremmo chiamare famiglia degli aperti. quindi non è necessario avere una distanza per avere una topologia. Però le topologie che noi vedremo saranno quasi sempre, si dice, indotte da una metrica. Cioè, c'è sempre una distanza in quello che facciamo noi. Ci sono però dei casi in cui non è necessario avere la distanza. O. Come si applicherà tutto questo al caso della retta reale? La retta reale ha la sua distanza. Qual è la distanza che chiamo noi? La distanza Euclidea. Cioè, in parlo assoluto, la differenza. Allora, andiamo a vedere come prima proposizione le proprietà degli aperti. intorno di scontri. Allora, la proprietà degli intorno di scontri. Ho scritto bene ma ho detto male. La proprietà degli intorno di scontri. Allora, prima proprietà. se U appartiene a U di x con 0, questo mi dice che x con 0 è un numero di scontri. e se V contiene U, allora V è pure lui un intorno di scontri. La terza proprietà, se U1 e U2 sono intorno di x con 0, allora U1 e x con 0 è ancora un intorno di scontri. La quarta proprietà, se U è un intorno di scontri. x con 0, esiste V intorno di scontri, tale che U appartiene alla famiglia degli intorno di x. x con 0, esiste V intorno di scontri. x con 0, esiste V intorno di scontri. x con 0, esiste V intorno di scontri. chesta è una V che qua ha l'angoloso. Però succede quando uno va di fretta e disegna la V ed il punto tangoloso non si vede e sembra una U. invece se ci metti quella, questo è infatti puramente grafia, se ci metti questo svirvolo, questa svirvolina qua non è più possibile confondere la U con la U, ok? Queste sono le proprietà degli aperti, la dimostrazione di queste proprietà è pressoché banale andiamo a fare la dimostrazione dimostrazione allora, se U appartiene a U di x con 0 questo vuol dire, per definizione, che esiste un epsilon maggiore di 0 tale che U contiene B di x con 0 in epsilon e contiene x con 0 quindi, allora, 1 e 2 sono ovvie perché la prima proprietà dice che se ha un intorno, x con 0 ci sta dentro, x con 0 sta qua dentro, che sta qua dentro anche la 2 è ovvia, perché se questo è un intorno, V che contiene U contiene anche Bx con 0 ex quindi, pure la seconda è ovvia, andiamo a vedere la 3 allora, per vedere la 3, allora, U conterrà la sfera di centris con 0 e raggio a epsilon 1 se andiamo a fare U con 1 intersecato U con 2 se andiamo a fare U con 1 intersecato U con 2 e con 2 e con 2 che contiene a sua volta la sfera di centris con 0 e raggio a epsilon dove epsilon è uguale al minimo tra epsilon 1 e epsilon 2 che contiene a sua volta faccio una figura faccio una figura questa è U e questa è Bx con 0 e epsilon 2 e questa è questa è e questa non è in realtà questa è uguale ok? questo contiene questo contiene Bx con 0 e epsilon 2 chiaramente l'intersezione U1 intersecato 2 contiene la sfera di 2 basta perchè quella più piccola è contenuta questa qua è contenuta sia qua dentro che qua cioè l'intersezione di 2 sfera di centri in punto ovviamente è uguale a sfera di 2 andiamo a dimostrare l'ultima da 4 allora ripeto se U appartiene a U Bx con 0 implica anzi se solo se per definizione esiste un epsilon maggiore di 0 tale che U contiene Bx con 0 epsilon e contiene x con 0 allora io prendo come V proprio Bx con 0 x allora che cosa dico? io dico che che se Y appartiene a V e quindi la distanza x con 0 Y da Y è minore di Y allora U contiene la sfera di centro Y e di distanza Y1 dove Y1 è uguale a Y meno meno la distanza di x con 0 da X che è maggioranza cancello la figura precedente ne faccio un'altra ma questa è U questa è x con 0 e questa è la sfera di centro x con 0 di ragione adesso se io prendo Y qua allora Y per stare in questa sferetta questa distanza deve essere minore di Y allora se adesso vado a prendere la sfera di centro Y in raggio Y1 scusate che cosa succede? allora andiamo a prendere Z appartenente alla sfera di centro Y in raggio Y1 allora la distanza di Z da X con 0 per la disuaglianza triangolare è minore uguale della distanza di Z da Y più la distanza di Y da Y da X con 0 ma la prima è minore di Y1 e la seconda è minore di Y-Y1 perché chi è Y-Y1? esattamente la distanza di X con 0 da Y ok? e quindi che Y che è quello che dovevo dimostrare cioè come si enuncia quest'ultima proprietà se un insieme è un intorno di X con 0 in realtà in realtà c'è un ulteriore intorno di X con 0 perché che B di X con 0 Y sia un intorno di X con 0 è ovvio perché contiene se stesso e contiene X con 0 questo è un intorno di X con 0 più piccolo ma che cosa succede? che l'insieme di partenza è intorno non solo di X con 0 ma di tutti i punti dell'intorno quindi vedete la 4 stava scritta qua la mettono su così la ricommendiamo dato un intorno di X con 0 esiste un intorno più piccolo di X con 0 tale che U sia intorno di tutti i punti dell'intorno chi è questo intorno più piccolo? per esempio B di X con 0 ok? quindi quando un insieme è un intorno di un punto non è un intorno solo di quel punto ma è un intorno di un intorno cioè di tutti i punti di un intorno quindi dovete immaginare questo serve per consolidare questo discorso serve per consolidare nella vostra mente l'immagine di un intorno che non ha soltanto il punto ma ha tutta una zona intorno deve avere una zona di rispetto come devo dire però le definizioni sono quelle che abbiamo dato ok? adesso andiamo a vedere invece le proprietà degli aperti le proprietà degli aperti sono prima di vedere le proprietà degli aperti osserviamo che osserviamo che dalla proprietà numero 2 cioè che se io all'arco l'insieme se era un intorno rimane ancora un intorno segue che se io faccio l'unione di una famiglia qualunque di intorni del punto questo è ancora un intorno del punto basta uno che è un intorno quando vado a fare l'unione questo aumenta invece dalla proprietà numero 3 segue che l'intersezione di due intorni è ancora un intorno per esempio per esempio se faccio un'intersezione di 3 intorni del punto x con 0 è ancora un intorno sì o no? sì perché vi fai due alla volta fai un intersecato un 2 è un aperto è un intorno quello che viene intersecato 3 è ancora un aperto e se sono 4? pure se sono 5 pure quindi in realtà la proprietà numero 3 ci dice che un'intersezione di un numero finito di intorni è un x con 0 con un intorno x con 0 attenzione che la cosa non male più se il numero di intorni è infinito facciamo questo esempio qui prendiamo r con la distanza e un'idea se io prendo la sfera di centro 0 di tiraggio 1 su n chi è? da 0 devo prendere i punti che distano a meno di 1 su n dove arrivo? da meno 1 su n a sinistra da 1 su n a destra quindi questo qua in r è intervallo aperto 1 su n meno 1 su n 1 su n è un intorno di 0? per esempio meno 1 quinto 1 quinto è un intorno di 0? è certo che si conviene se stesso che è un aperto che è un aperto che è una sfera bello adesso però andiamo a fare l'intersezione di tutti questi intervallini che è l'intersezione di tutti questi intervallini? io prendo meno 1 su 1 meno un mezzo un mezzo meno un terzo un terzo meno un quarto un quarto un quinto un quinto qua davanti così faccio l'intersezione di tutti cosa mi rimane? mi rimane il solo punto 0 questo è un intorno di 0? contiene un intervallo aperto contenente il punto? no? quindi come vedete noi abbiamo una successione intorno di 0 facciamo l'intersezione e ci viene una cosa cioè solo il punto 0 che non è per vedere se avete capito qualcosa andiamo a fare l'intersezione per n che va da 1 a più infinito di 0 1 su n chi viene? prendo di quegli intervallini prendo la metà di destra sempre aperta chi è questa intersezione? che ci sta dentro all'intersezione di questo insieme? 0 ci sta? punto 0 appartiene a questa intersezione? no, non c'è 0 prendi primo 0 aperto che va da 0 a 1 ci sta 0? no e allora l'intersezione quanto fa? insieme a vuoto è chiaro che viene insieme a vuoto? cioè scusate ragionate non dovete mai staccare la leva del ragionamento questo facciamo da 0 si capisce no? perché se io prendo qualunque punto che non sia 0 quando prendo n abbastanza grande sapete che 1 su n è minore di x se x è maggiore di 0 oppure è maggiore di x meno 1 su n sarà maggiore di x se x è maggiore di x quindi a un certo punto x esce fuori da questo quindi qua dentro ci sta 0 e ci sta solo 0 0 ci sta in tutto questo ma allora questi insiemi sono più piccoli di questi quindi l'intersezione di questi sarà più piccola di questi quindi un contenere è solo 0 ma se vai a vedere anche solo il primo di questi insiemi lo 0 non c'è perché 0 1 per esempio 0 è aperto quindi non c'è chiaro? e quindi se questo era il solo ad esempio stavolta l'insieme è vuoto questo non c'entra con l'esempio che volevo fare però giusto per capire se sapete fare un'intersezione di una successione di insieme ok allora cosa prova questo esempio? prova che noi abbiamo una successione di aperti scusate di intorno di 0 che quando andiamo a fare l'intersezione non mi da un intorno di 0 cioè la proprietà numero 3 non si può estendere alle succe successioni cioè quando andiamo a fare un'intersezione infinita ok? ok allora proprietà degli aperti della famiglia della famiglia tau la prima proprietà è che il vuoto e tutto x sono elementi di tau quindi sono aperti quindi sono aperti la seconda proprietà è che se io ho una famiglia a con lambda con un certo indice che appartiene alla famiglia degli indici lambda grande allora allora l'unione per lambda appartenente a lambda grande a con lambda e poi so che a con lambda appartiene a tau per ogni lambda appartenente a lambda allora l'unione quindi la scrivo qua sotto come si enuncia questa proprietà si dice che l'unione di una famiglia di una famiglia qualunque di aperti è aperta cioè l'idea è quella che se voi avete un po' di aperti ne fate l'unione l'unione viene ancora aperta attenzione però qua c'è un piccolo non inghippo ma una cosa alla quale state attenti la famiglia degli insieme aperti si dice indiciata cioè gli indici stanno in un insieme lambda perchè io non scrivo a con n per n appartenente a n perchè non so in quel caso sarei sicuro che la mia famiglia è una successione e non sono sicuro che sia una successione esistono anche famiglie di indici non numerabili per esempio se voi prendete tutte le sfere di centro x con 0 di agio e y al variare di x con 0 in r x con 0 varie in r r non è un insieme numerabile questo lo dimostreremo domani perchè è un esercizio lo faremo durante gli esercizi però r non è un insieme numerabile quindi quando per esempio il parametro che indica la famiglia A con lambda varia in un insieme per esempio di numeri reali in un intervallo di numeri reali in un altro insieme di numeri reali potrebbe non essere una diciamo potrebbe non essere numerabile ok? però non fa niente o numerabile o non numerabile quindi o questa è la successione non è una successione quando vado a fare l'unione di tutti questi aperti viene ancora un aperto quindi se sono tutti aperti l'unione è aperta unione di aperto è aperto unione una famiglia o alunni di aperto è aperto è chiaro? quindi quando avete un segno aperto fate l'unione esce sempre aperto terza proprietà a con 1 a con n appassiamenti a tau allora l'intersezione per vediamo qua che qua c'è questa lavagna rovinata l'intersezione per j che fa per h che fa da 1 è e h a con h a partire a con h ok? quindi stavolta se ne abbiamo un numero finito di aperti potevo metterci neanche solo 2 ma o 2 è un numero finito abbiamo capito prima che è la stessa cosa l'intersezione di un numero finito di aperti è aperto chiaro? allora queste proprietà si devono dimostrare dimostriamo queste proprietà e poi tiriamo un po' le somme la prima proprietà è ovvia l'avevamo già vista l'altra volta un aperto chi è? è un intorno di ogni suo punto ma siccome il vuoto non ha punti e quindi la condizione è soddisfatta x sicuramente condivide tutte le sferre aperte quindi è intorno di ogni suo punto la prima è ovvia la numero 2 prendiamo un punto appartenente all'unione per lambda appartenente a lambda di a con lambda allora se appartiene all'unione qual è l'unione? quali sono i punti quali sono i punti che appartengono all'unione? quelli che appartengono almeno a uno degli insiemi dell'unione quindi che vuol dire? che esiste lambda 0 tale che x appartiene a o lambda 0 ma questo vuol dire che esiste un epsino positivo tale che x appartiene alla sfera di centro x e di raggio epsino che è contenuto in a lambda 0 che però è contenuto nell'unione di tutti quanti cosa abbiamo dimostrato? la proprietà numero 2 è sostanzialmente ovvia cioè nel momento in cui prendiamo un punto dell'insieme questo deve appartenere a uno degli a con lambda a con lambda è un intorno e l'unione degli a con lambda ha maggior ragione ha maggior ragione essendo più grande e la proprietà numero 2 è più grande è più grande di prima è più grande la proprietà numero 3 allora noi sappiamo che esistono epsino 1 epsino n tale che x appartiene alla sfera di centro x e di raggio epsino h che è contenuta in a con h per ogni h compreso tra 1 ed n cioè noi sapevamo che questi erano tutti aperti allora prendo diciamo scusate devo dire sia devo premettere sia x appartenenti all'intersezione per h che va da 1 fino a n degli a con h quindi x appartiene a tutti gli a con h ma siccome gli a con h sono aperti ogni a con h è intorno di x perché essendo un aperto è intorno di ogni proprio punto quindi cosa volete seguire? segue che esiste epsino 1 epsino h epsino n tale che x appartiene alla sfera di centro x di ragione epsino h che è il contenuto inaugurante e questo deve valere per tutti gli h compresi tra 1 ed n ci siamo fino a qui? quindi ognuno ha la sua sferetta che contiene adesso vado a prendere epsino uguale al minimo tra epsino 1 ed insieme epsino 1 epsino n sono un numero finito ci sarà il più piccolo il più piccolo di questi numeri ancora è maggiore di 0 quindi che cosa abbiamo? che x appartiene alla sfera di centro x di ragione epsino che è contenuta diciamo che è uguale all'intersezione per h che va da 1 a n che è contenuta diciamo che è uguale che va da 1 a n e e la sfera di centro x che è di ragione epsino con h che è contenuta nell'intersezione per h che va da 1 a n e e a con h cosa abbiamo dimostrato? abbiamo dimostrato che se x è un punto dell'intersezione esiste un epsino maggiore di 0 tale che x appartiene alla sfera di centro x di ragione epsino è contenuta per questa intersezione cioè che l'intersezione è ancora questo qua se l'intersezione era infinita non lo potevo fare ricordatevi il caso che abbiamo fatto prima quando facevo l'intersezione della sfera di ragione 1 su n di 0 allora siccome y n è uguale a 1 su n se n va da 1 a infinito il minimo di 1 su n non c'è mentre l'estremo inferiore che fa 0 in quel caso non posso prendere questo x se la detenzione è finita questi sono un numero finito il più piccolo di questi è ancora positivo nell'altro caso questo non succedeva ok? quindi anche la 3 è dimostrata o abbiamo finito? non abbiamo finito perché dobbiamo come minimo introdurre i concetti chiusi il concetto di chiuso che è complementare con le proprietà dei chiusi che però sono facili da dimostrare e il concetto di parte interna chiusura e poi lavorarci un po' però perché facciamo questo in generale? perché questi sono concetti generali che potremo applicare non solo su r con la sua distanza ma poi faremo analisi 2 avremo n avremo la sua distanza e anche lì i concetti saranno gli stessi gli aperti si definiranno allo stesso modo quindi non dovremo rifare tutto il discorso ma poi potremo anche considerare in analisi 3 vabbè sempre in analisi 2 scusate degli spazi di funzione e quindi anche lì potremo definire delle distanze delle distanze e quindi anche lì potremo andare a definire degli intorno gli aperti gli chiusi gli compatti chiaro? ok allora andiamo a soltanto prima della pausa andiamo a fare a definire che cos'è un chiuso a vedere le proprietà dei chiusi guardate che se queste cose le diciamo ci mettete un minimo di attenzione quindi ricordiamo le proprietà degli aperti le ho appena cancellate ma sono facili da ricordare la prima proprietà è che il vuoto e tutto x sono aperti la seconda è che un'unione qualunque di aperti è aperta la terza è che l'intersezione di un numero finito di aperti è aperta chiaro? queste sono le tre proprietà no no adesso andiamo a vedere la definizione di chiuso abbiamo sempre il nostro xd allora c contenuto in x si dice chiuso se sono 6 per definizione x-c è aperto quindi chi sono i chiusi i complementari degli aperti? allora uno può vedere chiuso e aperto come due cose alternative non necessariamente per esempio se tutti i sottinsiemi di x fossero chiusi ovviamente sarebbero anche tutti aperti se tutti i sottinsiemi di x sono aperti anche i complementari ma i complementari di tutti i sottinsiemi sono anche tutti però effettivamente questa cosa si rafforza nella mentalità dello studente perché nel caso del culidero effettivamente aperto e chiuso ci sono due cose distinte ma anche nel caso del culidero ci sono due insiemi sono solo quelli ci sono sempre due insiemi che sono sia aperti perché le proprietà dei chiusi cosa dico? la prima proprietà la prima proprietà dice questo il vuoto e tutto x sono 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 quindi vuoto e tutto x sono sia aperti che chi erano anche aperti la seconda proprietà la seconda proprietà se abbiamo una famiglia diciamo chiamiamola c con lambda lambda appartenente a lambda tale che tale che c con lambda è chiuso per ogni lambda appartenente a lambda allora intersezione per lambda che è appartenente a lambda e c con lambda è chiusa si dice che l'intersezione è di una famiglia qualunque di chiusa e chiusa quindi terzo se c con 1 c con n sono diciamo sono chiusi sono tutti chiusi allora l'unione per h che va da 1 a n e c con h è chiusa quindi la terza proprietà dice che l'unione di una famiglia finita è di chiusa quindi le proprietà dei chiusi sono molto simili a quelle degli aperti semplicemente si scambiano tra unione e intersezione cioè mentre l'unione di una famiglia qualunque di aperti era aperta qui abbiamo che l'intersezione di una famiglia qualunque di chiusa è chiusa cioè fin quando prendo chiusi e faccio l'intersezione di chiusi questo esce sempre in seguito ok ok ovviamente per quanto riguarda l'unione l'unione è una famiglia finita di chiusi per quanto riguarda la dimostrazione la dimostrazione di queste proprietà è banale se vi ricordate le leggi di De Morgan cioè cosa dicevano le leggi di De Morgan la prima proprietà è banale x meno il vuoto fa x che è un aperto x meno x quando dico me questa sbarra questo backslash si chiama così backslash questo indica l'insieme dei punti che stanno nell'insieme di sinistra ma non nell'insieme di destra x meno a volte si mette anche proprio il meno però si prevedisce mettere questa sbarra obliqua perchè il meno può avere altri significati e meglio che non ci si confusa allora questo qua fa il vuoto cioè l'insieme dei punti che stanno in x ma non stanno in x chi è? nessuno allora siccome il complementare del vuoto è x il vuoto è aperto e il complementare del vuoto cioè x è anche chiuso il complementare del quindi il vuoto è chiuso il complementare di x è il vuoto che è aperto quindi x è chiuso quindi siccome il vuoto e x sono i complementari gli uni degli altri e sono tutti e due aperti sono anche tutti la seconda proprietà sapevamo che erano aperti la seconda proprietà quando vi andate a fare l'intersezione di c con lambda questa non è altro che x il complementare è l'unione dei complementari vi ricordate? il complementare scusate l'intersezione lo sempre vedete il complementare dell'intersezione è l'unione dei complementari quindi l'intersezione la posso vedere come il complementare dell'unione dei complementari ma allora questi erano chiusi quindi questi insiemi qua sono tutti aperti quindi questo insieme qua che è un'unione di aperti è un aperto e quindi questo insieme qua è chiuso perché è il complementare allo stesso modo però per vedere la terza proprietà noi dobbiamo fare l'unione per h che va da 1 a n di c con h ma questo non è altro che x meno l'intersezione per h che va da 1 a n di x meno c con h cioè come l'intersezione era il complementare dell'unione dei complementari così l'unione è il complementare dell'intersezione dei complementari ma allora questi sono aperti questo qui è un aperto perché è un'intersezione finita di aperti il complementare di un aperto è chiuso quindi siccome praticamente tutta questa lavagnata è servita a dire che cosa che siccome dei chiusi sono i complementari degli aperti le proprietà dei chiusi si ottengono da quelle degli aperti semplicemente scambiando in un'intersezione ok adesso possiamo di un'intersezione che sembra che le sono che Grazie a tutti